Il tono muscolato è bello, il tono muscolato Per i muscoli, il tono muscolato Dopo gli esercizi Dopo, non adesso, dopo No, dopo Non lo spoilerare Tu sei tutt'uno Lo vedo scritto nei tuoi occhi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro nuovo video Allenamento in famiglia Io ho detto prima io Benvenuti dei notti ragazzi Scusami, te, non lo so Oggi faremo un esercizio Per il tono muscolare Ha un'aura potentissima Faremo tanti muscoli Perché se no poi le donne hanno paura Le muscoli diventano grosse Grazie Duca per le schede Provi ad iniziare il nostro La struttura del nostro allenamento Sarà di ripetere 50 movimenti per ogni esercizio Ovviamente potete recuperare E dovete recuperare dei 50 Quindi non 50 consecutivi Ma 50 con delle pause a vostra scelta Non ci mette tutta la giornata Primo esercizio Primo esercizio Sono degli affondi alternati avanti Secondo esercizio Sono dei punti monopolarici per gluteo Ci sdraghiamo E andiamo ad appoggiare una gamba E poi 50 sull'altra gamba Il nostro terzo esercizio Sono Facciamo dei reverse crunch Ci sdraghiamo sempre quanto sopra In realtà Potremmo restarci da prima Mettiamo le gambe piegate Qua su E esce Su E esce Quarto esercizio Ci mettiamo in plank E tocchiamo le spalle alternate Se siete 40 50 per spalla Se no 25 25 Il plank 1 2 Cercate di tenere il bacino senza ruotare Il quinto esercizio Sono delle alzate laterali complete Però le facciamo proni Quindi Ci sdraghiamo pancia sotto Attiviamo Il nostro gluteo Il nostro addomino I nostri lombari E andiamo Su E giù E su E giù Tendiamo bene l'attome Fammi vedere Fammi vedere come lo fai Vai Su le braccia E su le braccia Vai Il sesto esercizio Il sesto esercizio Sono dei piegamenti Anche qua Scegliete il vostro livello Potete farli sulle ginocchia Buongiorno Buonasera La porta La porta No 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 Aspetta 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 La porta La porta La porta Il sesto esercizio Sono dei piegamenti Sulle braccia Possiamo farli O sulle ginocchia O a braccia tese Mi stai strozzando Facile Medio Uno Due Vai No Incredibile No Incredibile Adesso Ti sei fatto male Per darmi un pugno Incredibile Abbiamo attivato Una challenge Vi spiegherò In questo video E poi Se mi mandate Il vostro link E Se mi mandate Il vostro Già Mandatemi Il vostro video Per vedere Se riuscite A fare la challenge Anche voi E vi regaleremo Dante No E vi regaleremo Un nostro Viaggio Pronti? Dante Vieni sopra di me Pronti? Tenete Forte Boom Due Tre Quattro Cinque Sei Va bene Sai che poi sono sceso Cinque Cinque Per vincere la challenge Andatemi in video Perfezze Ancora si chiacchi Ciao a tutti Ricordatevi di iscrivervi al canale Mettere mi piace E condividere Mi piace Accendere la gambellina Andato Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Ancora si chiacchi Ancora si chiacchi